Io credo che strategicamente il fatto che il Papa non abbia approfondito questo tema specifico ci aiuta a non perdere di vista l'essenziale anche delle altre aree e l'urgenza profetica della denuncia e dell'impegno che c'è da metterci con tutto il vigore della Chiesa e della società mondiale per la difesa dell'Amazzonia. Quindi in primo luogo concentriamoci sul grido urgente che non può essere ritardata la nostra risposta su questo. D'altra parte è importante considerare che l'esortazione apostolica non chiude cammini, è un'esortazione che rilancia, che ascolta e valorizza la riflessione di una parte, ma dall'altra parte rivaluta l'importanza di leggere attentamente e impegnarsi sul documento finale per concretizzarlo e lascia spazio alle comunità locali e alle diocesi amazzoniche perché dal di dentro si cerchino forme sempre più inculturate e protagoniste perché la Chiesa si respiri con un rilancio e con un ruolo sempre più protagonico delle persone e dei laici e delle laiche. Grazie a tutti.